Ciao a tutti e benvenuti nel mio primo tutorial web tutorial sono un po' emozionato sono intenzionato a fare una serie, questo è il primo perché video, perché è molto più veloce parlare e farvi vedere piuttosto che scrivere quindi questo è il mio blog vi consiglio di prenderne nota www.andrea.com il tutorial di oggi si tratta di twitter essenzialmente come fare, sono uno ludico e uno invece più interessante come diventare ad esempio utente verificato come potete vedere qua e l'altro invece come realizzare le immagini gif animate per la vostra timeline perché sono molto più di impatto e un po' di entusiasmo infatti se io ad esempio scrivo tutorial lo twitto nella timeline di twitter c'è molto più di impatto rispetto alle altre immagini che invece sono statiche ora iniziamo subito invece come diventare utente verificato quindi andiamo subito nel vostro profilo modifica il profilo in profilo clicchiamo su profilo andiamo su bio e qua scriviamo utente verificato quindi aperta parentesi tonda utente verificato andiamo su salva tant'è che potete vedere sul vostro profilo la scritta utente verificato ma non è nient'altro che una semplice descrizione perché vi ricordo che solamente questo simbolo ad esempio il giornalista Riotta solamente questo simbolo è un utente verificato però vi ricordo anche che twitter in un apposito post dice che gli utenti verificati sono attualmente bloccati chiusi al pubblico e solamente per alcuni cioè lo dà ma lo dà a pagamento ma solamente per alcuni è stato fatto l'account verificato quali ad esempio quelli che allincavano il proprio profilo con un sito web come ad esempio quello del giornalista Riotta che abbiamo visto prima che vi faccio rivedere bene, ora visto questo primo tutorial su come diventare utente verificato però ripeto non reale perché twitter non lo permette passiamo invece a fare la gif animata quindi per chi non è esperto tutti quelli che mi hanno chiesto come poter fare esiste un software che poi non è un software ma si utilizza direttamente dal web www.picasion.com scegliete il file caricate quindi il primo file caricate il secondo file non mettetene più di due perché tanto questa versione gratuita a pagamento non ve la prende vi crea la vostra gif quindi quindi ad esempio questa è la seconda questa crea animazione voi la salvate sul vostro desktop e con un nome dopo di che andate su tweet gif caricate dovete prima autorizzare l'applicazione tweet gif ad autorizzare il vostro account di twitter io ho già caricato delle gif per caricare la vostra dovete selezionare selezionare il file dovete selezionare il file allora per semplicità forse così le vediamo meglio scegliete la vostra gif che avete appena creato con con picasio ad esempio questa qua andate su la salvate sempre col tasto destro salva immagine con nome la salvate sul desktop andate su twitter modifica il tuo profilo qua in scegli file scegliete nuovamente l'immagine che avete salvato prima salvate le modifiche ed ecco che sul vostro profilo twitter apparirà l'immagine gif l'immagine gif in in animazione ora naturalmente questo è il primo tutorial che potete trovare sul mio blog vi consiglio di condividere queste informazioni al mio sito www.andreaportoghese.com con i vostri amici tramite questi pulsanti se vi è piaciuto ditele ai vostri amici se non vi è piaciuto fatevi gli affari vostri il prossimo tutorial sarà invece lo strumento che si userà che io ho usato per registrare questo tutorial che è campstudio.org ok bene buon proseguimento ciao a tutti ciao a tutti